Questo è l'ennesimo gazebo che facciamo, l'ennesima manifestazione di protesta finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica, ad alzare un po' di attenzione sull'erogazione dell'assistenza sanitaria al malato. Sono innumerevoli le problematiche che coinvolgono tutti gli ospedali, ma l'ASP purtroppo, essendo anche grande come dimensione, non va proprio bene. C'è una gravissima carenza di infermieri, di unità di supporto, di tutto, manca tutto, dalla carta per fare le fotocopie, dalla carta igienica, ma è il nostro fine, siccome noi siamo responsabili dell'assistenza sanitaria al malato, ci preme manifestare questo disenso, invitando la direzione strategica a trovare le soluzioni più opportune e immediate per finire questa grave anomalia che coinvolge un po' tutti i presidi dell'ASP, ma maggiormente quello di Caltagirone. Non dimentichiamo che Caltagirone fino al 2009 era un'azienda sanitaria a sé, fu purtroppo fagocitata dall'ex AUSL3 per motivi che tutti sappiamo, la legge 5 del 2000, che creò questo declassamento della nostra azienda. Questa manifestazione abbiamo emesso un comunicato stampa dove abbiamo anche invitato il signor sindaco del comune di Caltagirone, che ahimè abbiamo chiamato anche in segreteria del sindaco, abbiamo chiesto se poteva intervenire in qualità di primo cittadino, ma probabilmente anche per motivi istituzionali. Comunque non abbiamo nessuna notizia in merito. L'appello accorato che noi facciamo, oltre a tutto quello che ho detto e al comunicato stampa, anche per essere sintetici, è riferito soprattutto a un'unità che ci preme assai più di tutte, che è quella dell'endoscopia digestiva, perché non è possibile che un reparto di endoscopia digestiva vi è solo un dirigente medico in servizio. Capiamo bene che da un paio d'anni c'è solo un dirigente medico in servizio e la cosa più grave è che degli esami che si chiamano RCP vengono dislocati presso il Pio di Acireale, dove l'ha malato, viene messo su un'ambulanza, portato ad Acireale, sottoposto a questo esame che è abbastanza cruento perché viene fatta dell'anestesia abbastanza importante, viene rimesso nell'ambulanza e accompagnato di nuovo a Caltagirone, anzi viene catapultato di nuovo nell'ambulanza e accompagnato a Caltagirone. Chiediamo che venga immediatamente nominato un direttore dell'unità di endoscopia digestiva o di un altro dirigente medico che possa effettuare questi esami in loco e non facendo fare all'ammalato 160 km, in condizioni veramente critici, con rischi di creare episodi di mala sanità. La segreteria provinciale Nursind è qui ad appoggiare la manifestazione nel Pio di Caltagirone, ne abbiamo programmate altre nella varia provincia, siamo qui a sensibilizzare sia l'opinione pubblica che la nostra classe politica. Ormai la sanità sia privata che pubblica è al declino, abbiamo visto tutti i presidi della provincia con varie problematiche, come diceva il nostro collega Di Masi. Si parla di professioni avanzate, usciamo da un percorso di laurea e poi siamo degli infermieri con contratti bloccati da più di un decennio. Noi vogliamo lavorare, vogliamo garantire l'assistenza ai pazienti sia come infermieri che sia come cittadino. Voglio sensibilizzare tutti a unirsi al sindacato delle professioni infermieristiche che vuole garantire una vera qualità assistenziale a tutti i cittadini.